Siamo arrivati finalmente al punto del nostro bel momento Di sicuro durante la partita vedete molte volte questo Quindi potete anche capirmi che ho l'ansia Io ho l'ansia per questa partita Voglio che la Juve vince, devi vincere la Champions Mi ammazzo Speriamo, veramente io ci spero Ci spero veramente Ci spero Qui le formazioni Non so se si vede, eccole Ecco qui le formazioni di questa partita Dai Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare Ok noi ci rendiamo tra un quarto d'ora e Raga no Avevo registrato i miei minuti di partita però Che falle Noccia Noccia Sovrapposizione in questo caso di Carmacale Nel doppio scambio Con il posto all'indietro Ha costituito troppa libertà In questo caso all'attaccante del Real Madrid Con l'interno piede secco in risciato Sul secondo palo fa un gol importante Visto che la Juventus era prima Noccia Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Forza con una leggera deviazione, Beffa Buffon, 2-1 Real Madrid. Per esempio, oggi vi è anticipato secco da Modric, che lascia poi a Carmacalla. Ancora verso Modric, sul fondo, riesce a metterla in mezzo, Ronaldo, fredde! Cristiano Ronaldo sbucca come un fantasma alle spalle di tutti, incredibile, 3-1.